Claudio Tommasini, appena concluso il secondo stagionale per la palla Canestro Trapani al Palamoncata di Portempedro contro Agrigento, come è andata? È andata bene, secondo me, contando che avevamo le rotazioni molto corte con la mancanza di Massimo e di Kedrick, penso che sia stato un grosso impegno dal punto di vista difensivo, in attacco facciamo ancora degli errori, come è normale, penso al secondo appuntamento di squadra della stagione, però sono contento di tutti i miei compagni e di quello che abbiamo fatto.